Buongiorno, sono Oscar Bellandi, oggi andremo a vedere come la barca una volta riposta sul proprio carrello deve essere portata fuori con l'automobile dalla zona di scivolo. Una volta caricata la barca sul carrello va messa in sicurezza, quindi oltre alla cinghia dell'argano andrà bloccata per sicurezza con un'altra cima supplementare. Noi ne abbiamo una gialla, giusto per dimostrazione, la usiamo come sicurezza supplementare, la sicurezza non è mai troppa. Si fissa anche abbastanza velocemente questa cima al tangone del carrello. Ecco, Luca sta facendo queste operazioni. Perdeteci sempre piuttosto un minuto di più che un minuto di meno per la sicurezza, mi raccomando. La cima in esubero può tranquillamente stare appoggiata e tanto non dobbiamo ancora andare in strada. Una volta fatte queste operazioni l'operatore salirà sull'automobile, deve accendere il motore perché sullo scivolo, in zona di porto, i motori devono essere sempre spenti. Abbiamo il freno a mano tirato, quindi accensione il motore, si rilascia il freno a mano, si punta la frizione e si va in accelerazione. Fate sempre queste manovre lentamente. Grazie.